Il dibattito sul tema della creazione di una politica estera di sicurezza e di difesa europea è sempre più acceso. C'è tornato anche il presidente Draghi ricordando che una difesa europea non può che essere d'aiuto anche alla Nato e sarà complementare alla Nato, così come ha ricordato che non si può avere una difesa se prima non c'è una politica estera comune europea. Sono due temi fondamentali perché lo scenario geopolitico continua a deteriorarsi come mostrano da un lato i sorvoli di aerei militari cinesi nel spazio aereo di Taiwan, così come spesso accade nei paesi baltici da parte dell'aviazione militare russa. La realtà è che il mondo è sempre più pericoloso, gli Stati Uniti sono presi dal loro scontro egemonico con la Cina e la sicurezza degli europei dipende ormai dagli europei, che non sono in grado di garantirla separatamente. È quindi indispensabile procedere verso l'unione politica, verso un vero governo federale europeo, con una responsabilità piena in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa. Ma questo per essere raggiunto richiede fondamentalmente due cose, l'europeizzazione del seggio francese all'ONU e della force de frappe. Il nodo sarà dunque la Francia, è necessario avere un piano a tappe di medio periodo per riuscire ad arrivare a una politica estera di sicurezza e di difesa europea, senza la quale continueremo a non contare nulla nel mondo, a non poter difendere i nostri interessi e i nostri valori in uno scenario mondiale sempre più turbolento.